Metti in moto. È da una vita che voglio farlo. È da una vita che voglio fare. È da una vita che voglio farlo. È da una vita che voglio farlo. Che cosa fai? Aggiungo colore, atmosfera. Fa paura, mi piace. Wow. Forti! Ehi, un aerofano azteco della morte. Serve a scacciare gli spiriti maligni. Emette un suono terrificante come... Cos'è? Quello che diavolo è? Un aerofano azteco. Posso tenerlo? Sì, ti prego, ma non lo suonare. Salve. Salve di nuovo. Li ha accompagnati? È un servizio che fornisco. Cioè? Beh, faccio anche l'escort. Mi è uscita male. Già, certo. No, la verità è che mi sono sempre chiesto cosa si nascondeva in questa casa infestata. Capisco. Beh, l'unica cosa che si nasconde qui è la mia anima che sta morendo. E' quello il profumo che sento. Beh, non è la cena, quindi... Ah, è molto buono. A lei... Certo. Va di... Sì? Non ho niente da mangiare. No, non è. Ok, tour. Bene? Bene. Grazie. Grazie a tutti.